Tu fai un discorso bene, come ti chiami? Presentati ai nostri lettori, Giancarlo Falcone, lo devo dire io, va bene? No, no, lascia a perdere. Allora, se vuoi da che prima riprendo l'oro? Riprendo l'oro. Riprendo l'oro. E' il suo, il suo, il suo, il suo, il suo, il suo, il suo.